Fratelli Coltelli. E non per scherzo. La storia del Rocchezeppa di Liti in famiglia. Ma quella tra i fratelli Liam e Noel Gallagher, rispettivamente dal vivo stasera e domenica sul palco degli Idei San Milano, è la più avvincente, se così può dire. Mai andati d'accordo, neppure quando erano rispettivamente voce, Liam, e chitarra, Noel, degli Oasis. Facile scomodare l'adolescenza inquieta in quel di Manchester prima del successo, Liam era il cocco di mamma e papà ci picchiava, disse una volta Noel. La vera scintilla dietro la saga dei fratelli Gallagher a volte sembrata più una questione di caratteri opposti opportunamente sbattuta in prima pagina dalla stampa inglese. Ironia della sorte, dallo scioglimento degli Oasis del 2009, la lite non si è placata. Anzi, i due non hanno perso occasione per stuzzicarsi a distanza. Liam criticando ogni volta i dischi solisti del fratello più grande. Noel accusando Liam di parlare solo per farsi pubblicità gratuita. Mai neppure una stretta di mano. Di certo, sarà così anche nei prossimi giorni a Milano.